Si aggirava al volante della sua Fiat Punto con fare molto sospetto attorno alla chiesa e all'asilo di Silvelle di Trebaseleghe. Visto che nei giorni scorsi si erano verificati furti in alcune chiese dell'alta, subito i residenti hanno chiamato il 112 per segnalare l'auto. I militari hanno così fermato e controllato il conducente dell'utilitaria. E guarda caso, non solo l'uomo, un 61enne di origine croata, era ben noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio commessi proprio in luoghi di culto. Ma in macchina hanno trovato il classico attrezzo utilizzato per prelevare le monetine dalle cassette delle offerte che si trovano nelle chiese. Per lui è scattata una bella denuncia.